Tante passeggiate a Francavilla, soprattutto in questi periodi un po' di inattività, ho voluto insieme all'amico Claudio Cecamore produrre una guida turistica con foto in bianco e nero che rappresentasse un po' la nostra città bellissima con tutti i suoi monumenti, le sue passeggiate, il mare, la collina, l'archeologia, una proposta che va per la città e non solo, per tutti i nostri ospiti per l'estate. Abbiamo tutto ciò che si può desiderare, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo l'archeologia, abbiamo bellissime chiese, monumenti, palazzi, una buonissima cucina, un vino meraviglioso, i prodotti della terra, non ci manca niente. È una scelta del professore alla quale partecipo con piacere in qualità di fotografo. Francavilla ha una grande quantità di aspetti meritevoli di attenzione, non tutti conosciuti neanche forse da tanti che vivono a Francavilla, per cui io l'ho vista come un'opportunità di collaborazione con Massimo, il professore che è sempre una cosa gradevole e importante. E anche il modo di stimolare, in quelli che avranno il piacere di vedere questo libro, stimolare una curiosità ad approfondire la conoscenza di Francavilla, che ripeto, non è soltanto la spiaggia, merita anche per la sua storia. Massimo si è sempre distinto come uomo di punto della cultura del territorio, non solo francavillese ma direi abruzzese con i suoi tanti libri che ha scritto. Ed è importante che oggi dedichi una sua scrittura alla sua città, a Francavilla. è un libro dedicato appunto ai cammini per visitare Francavilla, in un momento in cui il turismo legato ai cammini, ai borghi, al turismo lento, è un momento di grande espansione di questo tipo di turismo, e quindi è importante che ci sia anche questo libro, quest'opera, che aiuta i turisti che vengono a Francavilla a scoprire la nostra città.